La mostra dell'artista Bimba Landren, illustratrice di libri per l'infanzia attraverso le immagini di grande fascino dipinte dall'artista stesso, il progetto espositivo mira coinvolgere un pubblico molto vasto con un'attenzione particolare a più piccoli, l'esposizione al Museo Carlo Pilotti di Roma, come ci ha raccontato Natalansolini. C'è la successione del mito della leggenda, dall'incredibile viaggio di Ulisse al destino di Achille e poi l'incontro con le vite di artisti del calibro di Leonardo, dove i paesaggi sono raffigurati come una veduta a volo d'uccello dall'orizzonte alto. E il mondo fantastico e visionario di Bimba Landren, in mostra fino al 4 giugno al Museo Pilotti a Roma, un viaggio nella produzione dell'artista milanese di origine Lettoni, fatto di unicorni a notti blu, paesaggi stellati e mari aperti, attraverso un uso del colore legato a doppio filo al soggetto da illustrare, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico di lettore molto speciale, quello dei bambini. Il pubblico dei bambini è un pubblico bellissimo, perché i bambini hanno una grande profondità e anche una grande intelligenza e soprattutto a mia parere sono artisti, quando si è bambini si è proprio artisti, per cui comunicare con loro è quasi parlare la stessa lingua, parlare lo stesso linguaggio. Un immaginario fantastico, quello della Landman, sempre affiancato da una profonda cultura visiva, che ha come elemento costanto un amore per l'arte, da quella greca e romana fino al surrealismo, presente anche nelle illustrazioni che non raccontano la vita dei grandi artisti del passato. Un viaggio attraverso tavole, libri illustrati e schizzi dell'artista sulle ali della fantasia, alla riscoperta di quell'incanto tutto infantile al cospetto di un mondo completamente magico. Grazie. Grazie.